non modifica il presupposto per l'obbligo del pagamento del canone, che era e rimane la detenzione di un apparecchio ricevente. La stessa legge di stabilità ha peraltro contestualmente previsto che questa presunzione può essere superata a decorrere dall'anno in corso esclusivamente tramite una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, la cui mendacia comporta gli effetti anche penali, di cui è l'articolo 76 del medesimo testo unico. Questa autocertificazione in realtà non inverte affatto l'onore della prova, in quanto il cittadino non è tenuto a dimostrare di non avere l'apparecchio televisivo, deve semplicemente, in base alla normativa citata, dichiararlo. Se fa una dichiarazione falsa, ne rimane come ovvio responsabile. Grazie, onorevole Giacomelli. Il deputato Baldelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. La ringrazio, Presidente Sereni. Ovviamente io non sono soddisfatto, ma ringrazio il sottosegretario Giacomelli, che è sempre stato molto attento su questo problema. Noi abbiamo posto questa ed altre questioni in una serie di interrogazioni che abbiamo depositato, Presidente Sereni, due mesi fa. Nel frattempo ci sono state anche le mozioni, a prima firma anche del gruppo di Forza Italia, su cui il sottosegretario Giacomelli ha lavorato insieme ai gruppi parlamentari in questo Parlamento, per chiarire alcuni aspetti che poi sono stati ulteriormente ribaditi dal Consiglio di Stato, in una vicenda molto lunga e discutibile del decreto ministeriale che dovrebbe dare attuazione a questa norma così particolare e controversa. C'è una lunga letteratura, Presidente, su che cosa sia il canone RAI. Alcuni sostenevo fosse un tributo, altri una tassa sull'apparecchio televisivo. Certamente, sottosegretario Giacomelli, e vi invito a pregare la RAI di non chiamarlo più così, non è un abbonamento. L'abbonamento i cittadini lo fanno alla Squadra del Cuore, lo fanno a Sky, alla RAI, non è un abbonamento. Stiamo parlando di un'imposta sul possesso dell'apparecchio TV. Per quanto riguarda la cosiddetta inversione dell'onere alla prova e, in qualche modo, addirittura dell'onere della rettifica, mi permetto di sottolineare quanto scrive in data 27 aprile il garante per la privacy. Suscita invece perplessità la scelta di individuare i soggetti obbligati al pagamento del canone automaticamente e in via presuntiva attraverso i dati relativi alla tipologia di tariffa applicata per l'erogazione d'energia di due clienti domestici con utenza nel luogo di residenza anagrafica, anche per i contratti stipulati antecedentemente al 2016, senza nemmeno effettuare preventive verifiche con i dati di residenza presenti in anagrafe tributarie. Ciò in quanto i dati relativi all'indirizzo di fornitura dell'energia elettrica non sono normalizzati e pertanto non verificabili con quelli relativi alla residenza anagrafica del contribuente presenti anagrafe tributarie. Anche se, come dichiarato dal Ministero sulla base delle simulazioni effettuate, i casi di non coincidenza tra l'effettiva residenza e l'applicazione della tariffa di due dovessero limitarsi a situazioni riferibili, virgolettato, pressoché esclusivamente a soggetti dello stesso nucleo familiare che risultano essere in modo anomalo titolari di più contratti della tipologia D2, lo schema in esame impone a carico di tali soggetti, attenzione, che su 23 milioni di contribuenti potrebbero comunque risultare centinaia di migliaia, un onere di rettifica dei dati che verranno trattati per addebitare il canone in bolletta, dovuto al mancato utilizzo dei dati esatti o aggiornati, cui sarebbe invece tenuta l'Agenzia delle Entrate titolare del trattamento. Questo per capirci sulla questione dell'inversione dell'onere e anche dell'inversione e soprattutto dell'onere della rettifica. Ma abbiamo diverse altre questioni. Intanto il decreto ministeriale che fine ha fatto, perché a noi non risulta essere stato firmato. La rivista online, che io non conosco, ma ho letto fisco e tasse, ho letto stamattina, ci informa che solo stamattina è stato firmato. Ricordo che i sensi della legge di stabilità avrebbe dovuto essere firmato e pubblicato entro 45 giorni dall'approvazione della legge di stabilità, parliamo del 15 di febbraio. L'esenzione dal canone RAI è scaduta ieri. Il decreto non risulta ancora pubblicato. I centralini, ci dicono alcuni quotidiani, della RAI sono andati in tilt. Il Consiglio di Stato non oltre un mese fa vi ha detto che le informazioni non erano chiare, che andavano scritte in italiano e che andava fatta un'ampia campagna di informazione. Queste cose sono state fatte ed è stato possibile farle in un mese. In più aggiungo e concludo, e mi auguro che si risponda su questo, l'autorità per la concorrenza del mercato e i diritti dei consumatori mette sotto inchiesta le società elettriche per comportamenti contrari al codice del consumo, per i maxi conguagli che mandano le famiglie, maxi conguagli pluriennali, a famiglie non morose, comportamenti presumibilmente contrari al codice del consumo e voi avete la bella idea di dare in mano a questi signori l'esazione del canone RAI. Noi troviamo tutto questo indecente per tutti i guai, per tutti i pasticci che comporterà, per tutti gli oneri che comporterà a carico dei cittadini, utenti e consumatori, con in più il fatto che questa normativa avrebbe dovuto rateizzare in qualche modo il canone RAI. Beh, grazie al ritardo di questo Governo, che fino a qualche tempo fa non aveva neanche più il Ministro dello Sviluppo Economico, altro che rateizzazione, arriverà una mazzata intera, tutta in una volta, delle prime tre rate. 70 euro, altro che rateizzazione. Complimenti davvero. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3, 1632, dei deputati Tersoni ed altri, concellente rimodulazione dell'accordo di programma relativo alla vicenda della JIP Industries di Fabriano, in provincia di Ancona. Il Sottosegretario per lo Sviluppo Economico, Giacomelli, ha facoltà di rispondere. Prego, Sottosegretario. Sì, signor Presidente, prima di entrare nel merito delle richieste formulate dagli interroganti, ritengo utile un sintetico riepilogo degli eventi. Ricordo che i commissari, dopo la pubblicazione, per la raccolta di manifestazioni di interessi all'acquisto.